Questa sera trattiamo un tema molto importante, i carismi di guarigione e i miracoli uniti al dono della fede. Guarigioni, miracoli, fede. Sono i carismi che si distinguono per la loro potenza nella loro manifestazione, nell'impatto che hanno nel mondo naturale per cambiare le situazioni che possono affliggere persone o per cambiare situazioni del corso naturale delle cose. Parlo dei miracoli. Partiamo dal carisma di guarigioni. Nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 12, verso 9, il Signore ci fa conoscere che a un altro, invece, vengono dati carismi di guarigioni nell'unico spirito. Questa è la traduzione piuttosto letterale che ho voluto fare, come al solito, riprendendola dal testo greco originario, perché rende molto bene l'idea. Quando Paolo parla in questa lettera, al capitolo 12, dei vari doni dello spirito, che altre volte le chiama pneumata, cioè pneumaticon, delle cose dello spirito, qui parla invece, quando parla delle guarigioni, parla di carismata, cioè da qui la parola italiana carismi, in inglese carismi, ma non è molto usato. Anche in questo senso vogliamo, ecco così, dire che il tema carismi è un tema appropriato in quanto è proprio la scrittura che ne parla, proprio in relazione alla manifestazione dell'azione dello Spirito Santo attraverso un credente. Ecco, quando si manifesta con quelle caratteristiche che già abbiamo detto, per esempio, nei doni di rivelazione, nei carismi di rivelazione, che sono il logos, la parola di conoscenza, la parola di sapienza e il discernimento di spiriti, così per le manifestazioni che impattano con potenza l'ambiente circostante e portano soluzioni alle persone o cambiano il corso delle cose con azioni che vanno al di là delle leggi naturali che regolano il normale svolgimento dei fatti, dando un particolare convinzione, forza di fede alla persona che agisce, ecco che lo Spirito Santo si manifesta con doni di grazia, carismi, questo è il senso, doni di grazia o cose pertinenti alla grazia che hanno questa caratteristica della potenza. Molte volte questi carismi sono guardati con un certo sospetto, specialmente proprio dai cristiani e questa, ahimè, è una grave considerazione che facciamo proprio questa sera, in quanto è eccezionale vedere lo Spirito Santo all'opera attraverso di noi perché gli altri possano beneficiare del suo intervento di guarigione, di liberazione e di soluzione dei problemi che affliggono l'uomo. dunque dicevo che mentre di solito Paolo parla nel capitolo 12 parla a uno viene dato il logos di sapienza, uno il logos di conoscenza, parlando di logos parola, messaggio, eccetera, a un altro discernimenti di spiriti, ecco quando parla di guarigioni usa proprio la parola carismata, cioè sono cose date dalla grazia per le guarigioni, non al singolare ma al plurale. Direi perché viene usato il plurale? Beh, molti spiegano così perché le malattie sono molte e così anche le guarigioni vanno messe al plurale per indicare che non c'è un limite, ma insomma questa è un'interpretazione, la riporto perché ne ho sentito parlare, in realtà il testo è chiaro, i carismi di guarigioni sono delle cure soprannaturali che il Signore dà agli uomini perché possano guarire da loro malattie, da loro limiti che affliggono non soltanto il corpo ma anche l'anima che legano anche lo spirito e normalmente noi quando parliamo dei carismi di guarigioni non parliamo solo della guarigione dalla malattia fisica, il che avviene, ma anche della soluzione del superamento di contrasti interiori, emotivi o mentali in senso lato e anche la liberazione dello spirito da ogni oppressione e da ogni cosa oscura che possa dar fastidio. Quindi quando si parla di guarigioni si parla appunto di queste azioni dello Spirito Santo che riporta l'uomo nel suo ordine divino così come Dio l'ha pensato, rimettendolo in condizione di poter funzionare. Quando si parla di guarigioni non si parla di solito di una guarigione immediata e istantanea da una malattia, ma si parla di un processo di guarigioni appunto che riporta l'organo, quindi o il corpo o l'anima o lo spirito, nella situazione di funzionare in modo ordinato e secondo la volontà di Dio. Quando invece si ha una guarigione immediata, repentina, al di là del normale processo che la guarigione fisica per esempio importa e comporta, allora più propriamente alcuni dicono si dovrebbe parlare di miracolo, perché non innescandosi quel normale processo di miglioramento fino ad esaurimento della causa della malattia stessa, si ha diciamo un'azione che va al di là delle leggi naturali della guarigione stessa, ma che riporta immediatamente o il corpo o lo stato interiore della persona a una situazione di libertà e di perfetto funzionamento. Quindi in questo alcuni distinguono il carisma, i carismi delle guarigioni dai dal dono di operare miracoli. In realtà una contra una distrazione netta e precisa si può anche fare, ma il punto è questo Dio ci ama. Gesù è venuto per portarci il suo spirito, la soluzione ad ogni problema che c'è sulla terra affinché noi possiamo godere dei diritti che Dio ha dato ai cittadini del suo regno. Questa è la realtà dello Spirito Santo che vive in noi affinché noi possiamo godere pienamente dei favori del Re, Signore Gesù Cristo, dei benefici che ci derivano dall'appartenere a Lui e dal suo regno meraviglioso. Tra questi benefici, tra questi favori che il Signore Re Onnipotente ci accorda sicuramente c'è quello di poter beneficiare della sua guarigione. Gesù Cristo, ne abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti su questo tema, si è mosso sulla terra in quei tre anni e mezzo di ministero pubblico operando continuamente guarigioni, liberazioni di ogni tipo e miracoli di ogni tipo. Quindi è Lui stesso che ci insegna come possiamo vivere da uomini con la manifestazione dell'ospito Santo che è con noi. Quindi Lui stesso è il modello, Lui ci ha dato il modello, ci fa vedere come possiamo operare nella potenza, nella pienezza dello Spirito Santo. In realtà possiamo anche definire questo carisma come un impegno che il Re Signore si prende per il benessere dei suoi cittadini sulla terra. E quindi è anche un programma che lo stesso Signore, Re Supremo, ha intenzione, vuole e attua per il benessere dei suoi cittadini. Dunque i carismi di guarigione sono un rimedio che Dio pone a situazioni di disordine, di malfunzionamento, di afflizione e tormento per riportare il benessere alle persone attraverso la manifestazione del Suo Spirito. Se prendiamo per esempio il Vangelo di... ecco qui riporto una precisazione, vedete nella slide e a un altro invece carismi di guarigioni nell'unico Spirito. Parla dello Spirito Santo qui. Quindi nell'unico Spirito. Quindi ecco anche qui questo ho messo tra parentesi la parola greca perché indica proprio dentro. E quindi come dire stare dentro quell'unico Spirito manifesta, sprigiona la sua potenza. Ecco vedete la parola greca che viene usata per indicare le guarigioni è carismata, l'amaton. Che cosa vuol dire questo? L'amaton, medicamento, pacificazione. Questi sono i significati della parola che viene usata in questa lettera. Medicamento, pacificazione, rimedio e ancora guarigione. Vedete solo Nuovo Testamento. Questo è riportato nei migliori vocabolari di greco. Il senso di guarigione vero e proprio è usato soltanto nel Nuovo Testamento. Per favore potete spegnere la spia che mi rientra tutto. E quindi altrimenti in generale questa parola che noi traduciamo con guarigioni ha un significato quasi più ampio e cioè medicamento, rimedio e pacificazione. Ecco perché dire che la grazia si prende cura di noi attraverso un'opera di pacificazione vuol dire che estende queste guarigioni non solo all'aspetto fisico ma ovviamente anche a quello che è l'aspetto della nostra pace interiore. Questo lo uso e mi piace farlo perché il senso della parola l'amaton è più ampio della semplice guarigione perché spesso le persone riferiscono i guarigioni solo all'aspetto fisico ma non è così poiché una liberazione che toglie il tormento dell'afflizione, dell'oppressione, di spiriti maligni è una guarigione perché ristabilisce la pace nella persona che può rifunzionare attivata in ogni suo stato. Ecco perché quando noi parliamo della liberazione diciamo sempre che è un'azione di guarigione dello Spirito Santo ed è un'azione miracolosa anche per questo ho parlato di guarigioni e miracoli insieme ne vedremo dopo perché quando nel Vangelo si si riferisce a Gesù che passava guarendo e liberando ci si riferisce a lui dicendo che compiva miracoli proprio in relazione all'azione di liberazione. Di questo ne parleremo meglio dopo. Dunque dicevo prendiamo pure il Vangelo di Matteo al capitolo 4 verso 23 vorrei farvi vedere questo. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona notizia del regno e curando ogni sorta di malattia e di infermità nel popolo. Quindi la guarigione curando ogni sorta di malattia cioè portando guarigione ad ogni tipo di malattia e di infermità distingue le malattie dalle infermità. Questo è ovvio anche per noi che cosa voglia dire e dove nel popolo nella gente nelle persone quindi c'è queste malattie queste infermità sono nelle persone e Gesù passava portando guarigione e cioè cura medicamento rimedio pacificazione alle persone afflitte da queste cose. Tanto vero continua nel verso 24 e dice la sua fama si sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti i malati tormentati da varie malattie e dolori indemoniati epilettici e paralitici ed Eli li guariva e grandi folli andarono a seguirlo. Ecco che cosa vuol dire? Vuol dire che la gente ha bisogno della guarigione e qui dobbiamo eliminare ogni ombra di dubbio perché lo dicevo all'inizio specialmente i credenti cristiani spesso hanno come dire una sorta di timore a avvicinarsi al termine guarigione a molti anche a chiederla al Signore o a goderne purtroppo è così ma in realtà il Signore ha dotato appunto i suoi i suoi figli di questa particolare capacità di potenza che è la sua azione poi in loro cioè di apportare un rimedio a ciò che sta affliggendo gli altri. Quando si parla per esempio di infermità non si parla solo dell'infermità fisica ma pensiamo alla paura al panico all'ansia all'angoscia non paralizza forse quella non trattiene nelle catene dell'infermità? Ebbene sì ecco perché quando lui dice guariva tutti li portava anche gli indemoniati perché sono spiriti maligni che legano le persone e che quindi va di pari passo con l'azione di liberazione. Sono doni per la restaurazione dell'intera persona i carismi di guarigione sono doni per la restaurazione dell'intera persona questo era stato preannunciato in Isaia 58 andate a vederlo a leggerlo quando dice che ci chiama il Signore restauratori di brecce riparatori di brecce restauratori di antiche case in rovina cioè lui dice che noi saremmo stati quelli in Isaia lo dice preannunciando quello sarebbe avvenuto con l'avvento del messia chiaramente dice che avremmo riparato le brecce avremmo rimesso a posto le cose dove ci sono le falle avremmo posto un rimedio e avremmo anche riedificato le antiche rovina rovine ecco perché sappiamo che questo era stato preannunciato Gesù è venuto lo ha dimostrato ci ha detto fatelo così ha dato l'incarico a tutti fatelo e poi ha compiuto l'opera della croce e salendo al cielo ci ha mandato il suo spirito perché noi potessimo farlo dunque chi si rifiuta di eh accettare che attraverso di lui il suo lo spirito di Dio può agire portare guarigione liberazione persone in qualche modo nega l'opera che Gesù ha compiuto perché di questo si è trattato e cioè ci ha dato il suo spirito affinché il suo regno potesse manifestarsi sulla terra la guarigione è una cosa fondamentale per l'uomo è importante la guarigione c'era un amico che di solito quando parlava di guarigione ci per far riflettere le persone diceva non vedete forse che nelle strade quando passa un'ambulanza tutti si fermano perché perché c'è un'urgenza perché la salute è importante non è è forse una parte importante dei bilanci degli stati la sanità delle persone gli ospedali i medici perché perché c'è questo bisogno nell'uomo di essere restaurati noi non siamo fatti per essere di Dio non ci pensò perché potessimo ammalarci non è un'idea di Dio la malattia questa ha seguito la caduta dell'uomo è la rovina che è conseguita al peccato al quale alla quale rovina Dio ha messo rimedio con la venuta del suo figlio appunto nella carne per poterla distruggere in se stesse quella rovina medesima e poi consentire ai suoi di poter manifestare la stessa potenza cioè di distruzione dei presidi del nemico in coloro che ne sono affitti ecco perché abbiamo questo tema così importante stasera a cui diamo un certo un certo spazio dunque questo è il piano di sanità per la cura delle degli uomini che Dio ha pensato quindi lui ci ha dato questo incarico il signore ha detto coloro che credono saranno seguiti da questi segni imporranno le mani ai malati e questi guariranno è una cosa molto semplice e cioè della serie stendi la mano il risultato poi è di Dio molti qui si pongono il problema ma se poi non succede perché Dio ha guarito alcuni altri no ci si fanno troppe domande io so che quando ho eseguito l'ordine del signore e nella fede che lui mi ha dato ho steso le mie mani alcuni sono guariti altri no ma per quelli che sono guariti ha fatto una grande differenza è significato che in quel momento era utile che guarissero era utile che fossi a portargliela in qualche modo che il signore si manifestasse in quel momento in quel posto attraverso queste persone quindi l'utilità va distinta un po' da quello è giusto e bene era utile in quel momento e quando Dio dice di fare una cosa non dovremmo resistere con le nostre paure di essere giudicati di fallire eccetera perché di solito Dio ti dà anche insieme al carisma di guarigioni anche un dono di fede particolare che ti fa agire nella certezza assoluta che lui si sta muovendo insieme a te in quel momento e che non non sei tu che fai qualcosa ma è lui stesso molte volte alcune persone pregano per la guarigione con lunghe preghiere quasi estenuanti invocando implorando Dio in ogni modo va benissimo ma lui ha detto stenderanno le mani sui malati e questi guariranno questa cosa l'ho capita quando una volta ero in un remoto villaggio dell'Uganda eh chiamato Chiaru Sozzi e lì eravamo in diversi di noi e eh c'era una un'assemblea di 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 credenti e anche non credenti eh che si erano radunati perché si era sparsa la voce che passava il Signore e questo eh è bellissimo vederlo ancora oggi che quando si sparge la voce passa il Signore come ai tempi del Vangelo così anche oggi accorrono anche persone non credenti di religioni più disparate non importava stavano male avevano bisogno di toccarlo per essere guariti noi l'abbiamo visto questo e quindi c'erano mille duemila persone in un capannone radunate e al momento in cui dissero chi vuole preghiera venga una preghiera venga avanti si mostrano come un'onda d'acqua come uno tsunami vennero avanti così perché tutti erano assetati di vedere il Signore all'opera nella loro vita e capì allora cosa voleva dire stendi le mani e loro saranno guariti perché non c'era tempo perché se se avessi dovuto se avessimo dovuto fare lunghe preghiere per ciascuno non avremmo fatto in tempo e quindi si si andava così mettendo la mano sulla loro testa e invocando il nome del Signore dicendo si guarito nel nome di Gesù Cristo qualsiasi cosa che ci veniva dal cuore di dire per il bene e l'amore che il Signore ha per queste persone e ha messo nel nostro cuore ebbene accadero guarigioni e miracoli di ogni genere che vedemmo con i nostri occhi cose sparire come grandi screscenze di carne e roba sulle persone proprio sparire questo me lo ricordo come un effetto straordinario anche perché mi colpi molto in quanto da reminescenze religiose forse del passato no qualcuno alcuni hanno difficoltà a pensare che il Signore si muova per la guarigione di persone che non sono credenti ma questo non è vero perché anche il Vangelo è pieno di questa storia no lui ha guarito il servo del centurione la figlia della donna Siro Fenicia lui si è mosso ci ha raccontato di tutto il Vangelo su questo aspetto si è mosso perché tutti potessero sapere che ciascuno può godere della potenza del Signore semplicemente mettendo la fede in lui essendo assetati lui di vederlo all'opera nella propria vita e questo lo abbiamo visto con i nostri occhi quindi l'invito è questo è chiaro stendi la mano e loro guariranno questo è il comando del Signore molti si preoccupano ma poi guarirà ma poi chissà che cosa succederà cosa diranno di me se non succede cosa quando si manifesta il carisma di guarigione il risultato del Signore c'è una frase celebre che viene riportata anche in libri di psicologia di psichiatria sociale e così anche sono motti di varie persone medici soprattutto cioè dicono Dio cura dell'uomo cura Dio guarisce e quindi noi dobbiamo prenderci cura degli altri prendersi cura non è soltanto andare lì fare un gesto plateale aspettarsi che qualcosa si manifesti è una cura amorevole un desiderio che l'amore del Signore tocchi quella persona perché preme più a Dio che a noi che le le persone guariscano in quanto sono figli di Dio sono stati creati da lui per tutti il Signore ha dato la sua vita ed è morto su quella croce prendendo su di sé le malattie come dice Isaia e morendo con quelle malattie in sé stesso distruggendo le nemicizia nel suo corpo questo e quindi è un un desiderio che questo amore impetuoso e inarrestabile del Signore si scarichi su tutti coloro che ne sono assetati ecco qui la meraviglia quindi non è un gesto plateale non è un potere di un uomo e non è neppure una cosa come molti possono pensare eh eh magica o mistica che poi non non so eh fate voi le differenze è invece una manifestazione di amore verso gli altri in quanto come te appartenenti allo stesso Dio dallo stesso Dio venuti solo che alcuni sono ancora temporaneamente distratti ed ecco perché il Signore ci mette su questa strada affinché con amore possiamo manifestare la sua presenza in noi perché tutti in noi lo vedano dunque ecco qui mi riferisco anche a quella particolare non è una particolare situazione di compassione quando preghi per qualcuno che che ha una malattia un'infermità un'afflizione di qualche genere ma è un desiderio che Gesù Cristo stesso possa prendersene cura e come come disse eh Gesù a Filippo quando richiese mostaci il padre ci basta Gesù gli disse ma eh Filippo tanto sei con me ancora non avete capito niente insomma chi vede me vede il padre e così poi dette in carica ai suoi di fare quello che aveva fatto lui e a quelli che avrebbero ascoltato i suoi nelle generazioni a seguire avrebbero visto sempre lui negli altri perché disse da quanto vi amate vi riconosceranno e quindi questo amore in qualche modo si manifesta e eh lo dico con tutta la gioia possibile si manifesta anche guarendo io sono stato testimone di molti eh situazioni di questo genere ho ricevuto guarigioni già in altre puntate di questa serie eh Fabrizio stesso ha menzionato di quanto io fui guarito eh da una tremenda polmonite altre volte eh uno dice vabbè una polmonite è una cosa virale si vede non si no ma un'altra volta ero completamente strappato nel nel gemello quindi in un muscolo e andai a fare la ecografia e in tempo di poche ore si ridusse quasi a niente lo strappo perché qualcuno aveva pregato su di me cioè io sono stato testimone ho ricevuto il don di guarigione il senso che qualcuno è stato tramite me l'ha portato e altre volte io ho portato la guarigione a qualcun altro quindi si tratta solo di essere disponibili e di muoversi per manifestare l'amore del Signore quando è utile se è il tramite se non è utile in quel momento in quel luogo attraverso di te forse qualcun altro che deve venire perché nuove relazioni devono iniziare non lo sai non lo puoi sapere se non è utile sarà qualcun altro ma se è utile si manifesta questa è la nostra fede la nostra fiducia che quando Dio vuole agire e sei disponibile se è utile accade chiaramente la guarigione del sempre Dio che agisce non avviene sempre attraverso una preghiera avviene anche attraverso i medici avviene attraverso le medicine i medicamenti che lui stesso ci ha dato il la capacità di di poter preparare e la sapienza di saperli utilizzare e così molte volte la guarigione è accompagnata da un processo attraverso le medicine attraverso i medici le operazioni chirurgiche tutto quello che volete accompagnata dalla preghiera e dall'amore del Signore quindi è sempre lui che agisce è sempre Dio che si manifesta solo che a volte è utile che ciò avvenga attraverso un carisma di guarigione ecco che noi diciamo sempre alle persone non smettere di andare dai medici va dal medico va dal medico non smettere di prendere medicina e tua iniziativa sia l'autorità preposta a questo che è il medico a dirtelo perché sarà il medico che constaterà che sei guarito ricordate il lebroso fu guarito edizione che devo fare va fatti vedere da sacerdoti erano quelli preposti a stabilire che era guarito e poi ti riammettono nella comunità questa era la conseguenza e così facevano dunque un'opera di guarigione è restaurare la persona un'opera di guarigione è cacciare l'intrusi mi riferisco agli spiriti maligni che albergano negli uomini che gli hanno dato spazio o che in qualche modo hanno avuto accesso alla loro vita anche attraverso porte ancestrali che è molto possibile è una forma di esecuzione di messa in pratica della giustizia di Dio cioè quello che è il diritto degli uomini è di avere di godere dell'amore del loro creatore del loro salvatore viene messo in pratica e cioè vivere in salute tutti noi abbiamo diritto a vivere in salute noi che siamo divenuti cittadini del suo regno abbiamo diritto a vivere in salute tutti gli uomini i uomini possono aspettarsi la misericordia di Dio e il suo amore che si manifesti portando guarigione anche a chi non è credente ne ho spiegato prima molto spesso accade che non devi essere in un incontro di preghiera per stendere la mano e portare guarigione non occorre vi narrerò una storia che è avvenuta non più di 40 ore fa di cui sono stato in qualche modo testimone perché attraverso di me è successo qualcosa e c'era chi era con me lo può lo può lo può ben dire eravamo su un aereo che tornava ci portava dall'uganda in italia poche ore fa e quando sono entrato in quell'aereo ecco fate attenzione a questo perché voglio mettervi insieme questo fatto i carismi di guarigioni non si manifestano mai separatamente parlo dal punto di vista del soggetto attivo che porta il dono ok quindi se siete voi a pregare per qualcun altro non è che si manifesta in modo isolato questo dono rispetto ad altri normalmente il carisma di guarigioni è unito al dono della fede e a volte si manifesta come un miracolo perché va oltre quello che è il processo normale di restaurazione del della parte che non funziona e dunque quando sono entrato su quell'aereo prestavo per metterci piedi ho avuto dentro di me una convinzione ma una sicurezza tale che la gente che era su quell'aereo era al sicuro per il fatto che ci stavamo montando noi perché questo è uno dei principi base degli insegnamenti sul regno dei cieli siccome noi siamo siamo cittadini del suo regno ambasciatori del suo governo sulla terra laddove noi siamo la r cioè l'ospito santo vive in noi e quando noi entriamo in un posto quel posto cambia quel posto è protetto angeli ci seguono il signore vive in noi e dentro di noi e quando entriamo con un posto perché siamo suoi ambasciatori attenzione sto dicendo questo quindi quando sei nel tuo scopo e quando svolgi l'incarico per cui senato e quando stai rappresentando il tuo governo il che dovrebbe essere per un cristiano sempre in quel momento porti il signore e lui re e sul trono nel posto dove sei in te nel tuo spirito e io ho avuto questa convinzione tutto quello che vi ho detto ora l'ho avuto in un millesimo di secondo dentro di questa convinzione e ho detto questa gente tutta salva ho pensato perché ci stiamo montando noi sopra appena siamo siamo saliti sopra poi era notte quindi la gente si è messa a dormire io non avevo il posto l'ho scambiato con altri e sono finito in un posto dove c'era più spazio non so perché mi sono messo lì a un certo punto della notte una persona una donna ha fatto un po' di trambusto era molte file più indietro e si è sdraiata in terra nel mezzo al corridoio tant'è vero che io lì per lì ho detto ma questa si sarà sdraiata in terra per dormirci meglio pensato addirittura ma invece in realtà non era così purtroppo poveretta se si era sentita male non riusciva a rinvenire non è che era svenuta ma era completamente confusa stava malissimo e non riuscivano a farla riprendere allora un grande trambusto in tutto l'aereo le osse schiandavano e venivano non sapevano cosa fare alla fine l'abbiamo vista questa donna che stava male con una pezza sulla faccia che non c'entrava niente perché insomma hanno fatto delle manovre quasi prese dal panico e non sapeva nessuno cosa fare allora al citofono dell'aereo hanno cominciato a dire presto un medico un medico hanno chiamato dei medici perché su un aereo capito non c'era altra un'altra soluzione che avere un medico a bordo magari senza attrezzi ecco e allora io ero seduto e questa donna aveva la testa circa al sedile dietro di me in terra e a un certo punto ho pensato ho avuto dentro di me un moto come dire potessi soltanto pregare per lei e ho cominciato a pregare dentro di me però volevo proprio pregare su di lei però ho detto ma forse è meglio che non lo faccia perché come si fa qui quindi ci vuole sempre un comportamento no congro all'ambiente la situazione e a questo punto ho semplicemente detto signore fatte io sono disponibile e mi sono rimesso tranquillo aspettando che gli altri facessero il loro compito come li aspettava a un certo punto questa donna l'hanno voluta a fare alzare ma non riusciva a camminare tanto che nel barco lì e mentre la portavano hanno visto che c'era un posto libero accanto a me solo perché una persona che era accanto a me era andata al bagno in quel momento e quindi hanno visto il posto libero c'era spazio per le gambe l'hanno messa a sedere lì accanto a me e io me la son trovata accanto e a un certo punto gli ho preso la mano e ho cominciato a pregare anzi ho continuato a pregare e ho detto ho detto dentro di me signore grazie che hai l'hai portata qui perché veramente allora quello eri te che mi parlava cioè era un desiderio mi aveva messo lui dentro ecco che quando sono entrato ho sentito quella cosa qui c'è sicurezza per tutti e poi quando ho detto potessi solo averla accanto per pregare per lei hanno fatto manovre strane fino a che me l'hanno messa a sedere accanto e quando era accanto le ho preso la mano e appena le ho preso la mano questa donna ha aperto gli occhi e ha cominciato a guardarmi cosa che non riuscivano a fare riuscivano a farla riprendere immediatamente al che io non sapevo se l'era credente se non è e cioè ho continuato semplicemente a pregare e piano piano questa donna si è rilassata e continuava a guardarmi al che ho cominciato a cacciare lo spirito di morte perché mi è venuto in mente semplicemente mi è venuto in mente questo è collegato al discernimento degli spiriti mi è venuto in mente che c'è uno spirito di morte che la affliggeva allora ho cominciato a pregare sottovoce perché non volevo che lei mi senti è cominciata a cacciare lo spirito di morte questa donna ha cominciato improvvisamente a sentire freddo a tremare tutta e ad avere appunto bisogno gli hanno portato allora tre quattro coperte ma io sapevo cos'era era semplicemente lo spirito di morte se ne stava andando e quindi in questo senso ho continuato a pregare a un certo punto mi ha guardato e mi ha detto Dio ti benedica questa donna allora ho detto questo è il semaforo gli ho detto sei credente sì allora ho cominciato ad accarezzarla a confortarla e a pregare eh senza più eh dovermi insomma riguardare nel dubbio ehm che non fosse credente e mi ho chiesto di dove era era di un posto dove conosceva una persona che io conosco un uomo di Dio e ho detto guarda che io conosco questa persona veramente davvero allora eh grazie grazie insomma ha cominciato piano piano ha ripreso colore mano a mano che quello che l'affliggeva se n'è andato e ha ripreso calore e ci siamo messi a cantare insieme una canzone che abbiamo imparato la si dice si chiama Lay your hands e nel silenzio perché tutti ormai si erano allontanati io e questa donna eravamo lì che cantavamo Lay your hands gently upon me let your touch render your peace e così nel silenzio piano piano non ci ha sentito nessuno abbiamo cantato al Signore dolcemente e lei si è assopita e poi ho fatto venire una sua amica accanto a lei e io sono sparito dalla scena ecco questo è un esempio di come il Signore ci possa usare in qualsiasi situazione eh senza bisogno di gesti plateari senza bisogno di niente semplicemente sapendo che hai la soluzione per chi sta male lì non c'erano medici non c'erano attrezzi non c'era niente questa donna stava male e Dio ha provveduto attraverso un canale disponibile perché ho detto sono disponibile Signore ecco vi ho fatto un esempio di come queste guarigioni possono compiersi in qualsiasi circostanza in qualsiasi ambiente in qualsiasi momento quindi non temete non andate a cercarle non andate a cercare di manifestare chissà che cosa quando è utile e siete disponibili Dio vi usa non c'è bisogno di forzare niente non c'è bisogno di fare preghiere fiume chilometriche e urlare gridare o fa non c'è bisogno di fare niente se non quello di ascoltare e di rispondere agli inviti di Dio rendendosi disponibili semplicemente così quindi ecco un invito alla semplicità un invito all'affidamento totale un invito all'amore del Signore consentire che attraverso di noi passi sugli altri ho detto prima che a volte le guarigioni non avvengono attraverso quel processo di maturazione del miglioramento fino alla salute ma c'è un totale repentino cambiamento della situazione che ha del miracoloso e cioè va al di là delle leggi naturali non so se questo di cui vi ho parlato ora è uno di questi casi probabilmente sì però ricordo che un'altra volta e questa era un'occasione di un incontro di preghiera stavamo pregando c'erano molte persone centinaia e ricordo una parola di conoscenza e io ebbi l'ho spiegato appunto forse ne ho già parlato ma ve lo voglio ridire in questa circostanza è importante quindi di una certa guarigione a delle ossa del bacino e la donna che poi fu guarita iniziò a fare dei movimenti a usare le ossa qui all'anca come se avesse le ossa ma li mancavano in parte e quindi fu sistemata dal Signore in un modo miracoloso quindi si produsse un miracolo si misero insieme doni di fede e parola di conoscenza affinché il miracolo potesse accadere quindi molti per questo dicono che il dono della fede è unito al doni di guarigione e dei miracoli perché è la base su cui la potenza poi si manifesta e io convengo con questo e non è che devi andare a cercarla improvvisamente lo sai improvvisamente sei certo che Dio sta compiendo qualcosa quindi il miracolo è qualcosa che va oltre l'esperienza umana guarire da qualcosa attraverso un processo fisiologico di miglioramento fino alla salute è un'esperienza umana ma guarire improvvisamente da qualcosa che ti fa svenire qualcosa che ti ti tiene a terra che ti uccide quasi e senza un osso funzioni come se l'osso tu ce l'avessi ha del miracoloso e questo è un miracolo quindi sono atti specifici che sconfiggono anche la capacità di comprensione umana la sconfiggono perché va oltre a quello che puoi pensare a quello che puoi immaginare e a volte anche chiedere le leggi naturali sono come sospese e qualcosa accade che va al di là dello spazio del tempo ma si produce perché come una manifestazione improvvisa della potenza divina che è di un'altra dimensione la dimensione eterna dove non c'è tempo e spazio e dove è un'altra dimensione è un intervento sopranaturale nel corso ordinario naturale questo è il miracolo pensate all'azione di mosè sul mar rosso quando si aprirono le acque dove lui stese la mano e stando in preghiera così per del tempo si produsse quella cosa incredibile si usa la parola incredibile per dire quanto la capacità di comprensione dell'uomo non possa nemmeno immaginarselo che possa accadere pensate a quando si narra di quella vedova che versava l'olio da un piccolo contenitore e riempì contenitori fino a che ce n'erano di grandi dimensioni di grande numero cioè l'olio non finiva più pensiamo alla moltiplicazione dei panni e dei pesci del signore noi non abbiamo visto i panni e i pesci moltiplicarsi in realtà abbiamo visto moltiplicarsi litri di benzina in un serbatoio di una macchina questa sembra una cosa banale ma ve la voglio raccontare perché non è stavamo andando in Polonia a prendere un aereo per riportarci in Italia eravamo io e Fabrizio con degli amici Bartek e Maddalena che voglio ricordare e salutare e ci stavano portando in auto con la sua macchina all'aeroporto solo che sbagliò strada e ci infilammo verso la città invece che verso l'aeroporto c'era una fila chilometrica in senso contrario cioè verso l'aeroporto ma noi andavamo nell'altra direzione e c'era vedevamo qua una fila chilometrica e noi ormai dovevamo arrivare alla città e fare inversione di marcia e quindi avremmo trovato tutta la fila chilometrica e avremmo perso l'aereo perché di lì a pochi minuti partiva quindi chiunque avrebbe detto siamo spacciati abbiamo perso l'aereo e non bastava quando siamo arrivati alla città abbiamo girato fatto inversione di marcia questo nostro amico disse ragazzi vi devo ammettere che ho fatto una sciocchezza non solo sballato strada ma non ho fatto benzina e sta per finire perché c'era la spia rossa mai da tempo l'aveva tenuto per sé perché gli pesava dirlo e quindi allora noi ecco come dire diciamo signore scusa perché siamo stati un po tutti sprovveduti abbiamo detto ma noi confidiamo in te e abbiamo iniziato a pregare avevamo io e Fabrizio dietro in questa macchina cominciamo a pregare in lingue e invocare il sangue di Gesù la sua giustizia eccetera mentre stavamo pregando è successo non so come noi come abbiamo girato la fila non c'era più a chilometri erano non c'era più la fila verso l'aeroporto e questo ragazzo che guidava non credeva più ai suoi occhi e disse ragazzi non so come dirvelo il serbatoio a metà perché dovevamo arrivare all'aeroporto e quindi il signore non solo ha in qualche modo aperto la via ma ci ha anche moltiplicato la benzina nel serbatoio ecco questo è un esempio di un miracolo che di cui siamo stati testimoni come un'altra volta sempre in in polonia ci stavano portando a un appuntamento importante altra coda pazzesca di macchine siamo messi a lodare dio invocare il nome del signor gesù cristo con tutta la gioia possibile invece dell'afflizione per l'eventuale ritardo e miracolosamente le macchine iniziarono a scacciare a scansarsi e noi siamo passati sono cose quasi inspiegabili per la mente umana ma accadono altre volte ricordo e vi faccio degli esempi banali vedete banali scusate tra virgolette faccio degli esempi pratici di vita concreta c'è l'utilità servono non è qualcosa di mistico che accade perché no dio si occupa dei nostri bisogni nel nella vita normale ricordo una volta fabrizio che stava al telefono con una donna che era al preda al panico perché aveva perso le chiavi della macchina nella quale aveva i figli era in mezzo al traffico non sapeva come fare la salita e poi arrivato a casa non trovava queste chiavi doveva riprendere la macchina non sapeva come fare e allora lui pregando pregò c'era anche il marito che era arrivato nel frattempo erano al telefono e stavano pregando al telefono e ricordo che fabrizio disse invitò gli angi del signore a venire riportare le chiavi sparite della macchina e a un certo punto non è nemmeno pensare cosa accadde dall'altro filo del telefono che sentirono fare un suono di chiavi che toccano terra come dal niente le chiavi caddero in mezzo al loro ai loro piedi ecco queste sono piccole cose che ci sono succede perché perché era utile che quella donna con i figli da sola in preda al panico la macchina ferma in mezzo alla strada andasse a riprenderla miracoli perché vanno al di là di quella che è la normale cosa vogliamo pensare ad altri episodi del vangelo la risurrezione di lazzaro vogliamo pensare a quando a pietro stesso o però queste queste potenti atti voglio andare avanti anche sulle sulle slide mi sono un po fermato su questo scusate riprendo subito ecco che cosa sono questi miracoli sono atti o azioni di potenza o forza vedete nella slide ho segnato con uno slash tra azioni atti e potenza e forza perché ve lo spiego bene perché torno ancora al significato delle parole greche che sono usate nel testo originale di questa lettera uno corinzi dodici dieci a un altro poi atti di potenza che cosa vuol dire sono energhemata di unameon questo è sono le due parole energhemata di unameon energhemata vuol dire atti vedete che c'è la radice della parola italiana energia non so se lo notate energhemata energia cioè questa questo rilascio di energia sarebbe quindi le parole azioni o atti in realtà non traducono esattamente anche se questa è la traduzione l'unica possibile in italiano il senso di quella parola energhemata è un rilascio di energia sia attraverso un'azione o un atto quindi c'è l'implicato rilascio di un'energia quando rilascio un'energia qualcosa accade su 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 ciò o su chi la rilasci perché c'è un qualcosa che che succede ecco l'energhemata è di unameon di unameon è potenza vedete quindi c'è un rilascio di energia attraverso un'azione o un atto che è di potenza di unameon è come la parola viene da dunamis che vuol dire non so pensate a questa parola la dinamo dinamite cioè la dinamo è ciò che accumula l'energia la trasforma e la rende pensiamo penso alla dinamo della bicicletta scusatemi ho in testa quella cosa lì no che accumula l'energia sviluppata dal movimento delle ruote la trasforma e la rende attraverso la luce del faro quella la dinamo che vuol dire che da rilascia potenza attraverso una una forza intrinseca che ha di trasformazione e di resa quindi vi ho messo appunto queste vedete l'energhemata sono azioni con rilascio di energia e forza e ancora attività e potenza operazioni traducono molti energhemata con operazioni nel senso di qualcosa che operi cioè che fai cose che fai vuol dire e potere cioè è il potere di trasformare qualcosa attraverso delle opere delle cose che fai ehm cioè muovi del muovi dell'energia questo è il significato attraverso una forza che ti è data e per esempio ancora sono atti o effetti gli energhemata e di unameon può essere anche tradotto con autorità non sempre soltanto forza e potenza quindi vedete quante ehm quante cose queste parole greche ci dicono al di là della semplice traduzione a un altro poi atti di potenza e così capiamo bene che cosa vuol dire che quando ti muovi in fede per portare l'amore del signore che è la soluzione ad ogni problema degli uomini qualcosa succede si sprigiona una eh potenza che è come un'energia che trasforma affinché anche le leggi della natura siano sospese superate e Dio possa manifestare nel naturale qualcosa che fa lui direttamente ecco questo vuol dire mirare quindi è come un'esplosione della potenza del re che 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 decreta favore e lo manifesta e qualcuno potrebbe dire ma c'è una legge naturale che non il re è supremo è superiore ad ogni legge naturale lui vive nella dimensione eterna dalla quale invisibile dalla quale viene il visibile e quindi lui ha questo eh questo modo a volte di fare per superare ogni ostacolo anche la comprensione degli uomini che spesso bloccano la fede i miracoli dunque sono istantanei mentre la guarigione è un processo spiegato eh questo spero ormai sia abbastanza chiaro ugualmente ho spiegato come miracoli soddisfano particolari bisogni cioè si manifestano per ciò che è utile e ancora un miracolo conferma 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 la presenza del regno cioè la presenza dello spirito santo in colui che lo compie niente di più niente di più è lui Dio che fa ma quando lo fa attraverso una persona eh è evidente a tutti che Dio vive in quella persona di fatti anche di Gesù dicevano ma come fa un uomo ma non è il figlio del falegname non è il figlio di Maria cioè come fa lui capito? era qualcosa che andava al di là del e lui diceva ma se non credete alle mie parole credete almeno alle opere che faccio sempre la parola era questa era credete a quello che faccio perché non è normale lo capite è Dio che si sta manifestando perché queste cose le può fare solo Dio ecco che allora se poi lui ha detto ai suoi andate e fate le stesse cose che ho fatto io non capisco perché i cristiani non debbano aspettarsi di compiere miracoli cioè questo proprio non riesco a questo proprio non riesco a arrivarci se poi non accadono è perché non è utile o perché noi non siamo disponibili è più facile Ricordo solo in Matteo dieci al verso cinque dice questi dodici Gesù li inviò dopo averli così istruiti non andate fra i pagani non entrate nei città dei samaritani cose che diceva ai suoi perché c'erano motivi particolari strada facendo dice pregate che il regno di predicate che il regno dei cieli è vicino guarite gli infermi risuscitate i morti sanate le ebrosi cacciate i demoni gratuitamente avete avuto gratuitamente date ecco qui lì le istruzioni del Signore mi sembrano molto semplici ed erano inviti a guarire attraverso processi di guarigione e compiere miracoli risuscitate i morti sanate le ebrosi via tutto capito erano situazioni dove il Signore stesso ha dato questo ordine istruzioni quindi mi rivolgo agli amici credenti che sono all'ascolto che ascolteranno queste mie parole perché possano suscitare in voi un desiderio di obbedire all'istruzione del Signore con tutto con tutta la gioia che potete avere nel vostro cuore e Gesù dico promise chi crede in me farà cose anche più grandi di quelle che ho fatto io Gesù è una promessa del Signore e lui ha detto niente è impossibile per chi è con Dio per chi è con lui perché niente è impossibile a Dio quindi chi ha Dio in sé può fare tutto quando è utile quando Dio vuole quando è il momento quando è il luogo e ancora disse tutto è possibile per chi crede Marco 9 23 quindi perché dobbiamo limitare il Signore con la nostra incredulità con la nostra sfiducia con la nostra limitata comprensione umana intellettuale delle cose che possono accadere questo ve lo dico per così ho il desiderio proprio di suscitare in voi il desiderio la gioia di vedere il Signore all'opera attraverso di voi senza dover andare a cercare cose prateali senza dover andare a cercare ovviamente l'affermazione personale no ma di desiderare che tutti possano vederlo all'opera tutti possano vedere risolti i loro problemi tutti possano beneficiare del suo amore questo è il desiderio che ci muove quando stendiamo le mani o quando preghiamo quando semplicemente ci muoviamo esistiamo camminiamo è chiaro che ci sono delle come dire delle condizioni a volte molti si sforzano di trovare condizioni di manifestazione di questi doni questi carismi dice ma il malato deve voler guarire certamente il malato deve chiedere a Gesù la guarigione sì certamente va bene deve chiederla con fede deve rimuovere certi ostacoli peccato la rinuncia all'occulto all'idolatria va bene ma non ci fermiamo alle condizioni i cristiani sono diventati degli esperti nel cercare giustificazioni al perché certe certe volte le persone non guariscono ma perché dobbiamo sforzarci di giustificare ciò che non possiamo comprendere piuttosto che obbedire affinché si manifesti ciò che possiamo fare perché ecco qui l'invito ai miei amici cristiani affinché i miei amici non credenti possano beneficiare anche loro dell'amore del signore Gesù Cristo siate liberi siate liberi non cercate giustificazioni desiderate vederlo all'opera quando è utile lui lo farà attraverso di voi senza ombra di dubbio perché non l'abbiamo visto e ne siamo testimoni c'è un altro ed è l'ultimo prima di chiudere questa sera carisma o dono o cosa dello spirito di cui voglio parlarvi è questo dono della fede di cui ho già parlato in parte in realtà è una speciale situazione interiore che hai di confidenza soprannaturale che vuol dire c'è una specie di confidenza o di fiducia di di fede che è quasi naturale tutti hanno la fede anche chi non crede nel signore alla fede un contadino che pianta un seme ha fede che da quel seme uscirà un germoglio e poi la pianta quindi c'è una cosa naturale in tutti gli uomini è dello spirito la fede è una cosa dello spirito non è una cosa della psiche è una cosa dello spirito ma c'è una fede diciamo la possiamo chiamare quasi naturale ma qui invece il carisma di fede il dono della fede è qualcosa che va al di là è una confidenza oppure meglio chiamiamola una fiducia estrema una certezza sicura incrollabile che una cosa è in quel modo che avverrà in quel modo che la promessa del signore si manifesterà sicuramente è questa speciale abilità che il re signore dà ai suoi ambasciatori ai suoi cittadini di credere nei suoi piani di azione perché agisca per svolgerli la fede il carisma di fede è la piattaforma su cui operano gli altri il carisma di fede è la chiave che apre le porte perché gli altri carismi possano manifestarsi perché per fede si attraggono le cose dall'invisibile nel visibile per fede ne parleremo dopo nella lettera ebrei questo è chiaro ma pensate un po' è questa particolare lo ripeto abilità capacità abilità risuona troppo come un talento scusate naturale ma non è questo non c'entra niente è una capacità che viene data dal dal signore ai suoi ambasciatori di credere con estrema sicurezza nei suoi piani d'azione che egli stesso ha fatto visibili nelle sue promesse perché agisca per svolgere vuol dire che quando accogli questo dono di fede e non cominci a mettere un dubbio a questionarlo ma sei certo che accade non puoi nemmeno mettere un dubbio perché sei certo questo da via libera lo spirito santo di essere rilasciato cioè di di manifestarsi in quel momento è un canale aperto insomma ecco traduco meglio così come se parlassi straniero ma traduco meglio è un canale aperto quindi la fede è diciamo quel letto nel quale il fiume di guarigione scorre e Dio 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 ti dà questa certezza è una è come se fosse anche una speciale autorizzazione che il signore re supremo dà ai suoi cittadini a sui ambasciatori a coloro che credono in lui e che sono nel e che svolgono l'incarico che gli è stato affidato e questa autorizzazione che così questa questo ambasciatore per Cristo così come dice Paolo un ambasciatore per Cristo così che un ambasciatore del Signore chi crede in lui sa di appartenergli e vive perché i suoi piani attraverso di lui si realizzino questo è un ambasciatore e riporta solo le opinioni del suo governo del re e questo è un ambasciatore qui non vive per affermare le proprie opinioni ma vive perché tutti possano sapere cosa ne pensa il suo re e il Signore questo è un ambasciatore quindi a quest all'ambasciatore il Signore dà una speciale autorizzazione a conoscere senza dubbio che un certo risultato alla fine sarà manifestato per lo scopo del suo regno quindi pensate che cosa può fare il Signore in in noi ecco scusate vado un attimo indietro perché slide sulla fede le avevo prima abbiate solo un attimo di pazienza ecco qui vedete 1 corinzi 12 9 dice a un altro fede non il dono il carisma la fede come se ci fosse la no a un altro fede nello stesso spirito di là diceva i carismi di guarigioni nell'unico spirito qui fede nello stesso spirito è quasi la parola che viene usata è pistis è fede fiducia vediamo che cosa vuol dire molto velocemente fede fedeltà prova non come prova da superare ma evidenza da dare dell'esistenza di una certa cosa fiducia lealtà argomento fedeltà garanzia credenza pistis vuol dire tutte queste cose quindi a un altro viene dato fedeltà a un altro viene dato la capacità di dare prova a un altro viene dato la fiducia a un altro la lealtà l'argomento agli argomenti interiori sei sicuro che le promesse del re si eh eh manifesteranno si avvereranno hai eh a un altro fedeltà garanzia credenza vedete ecco ho messo insieme tutti i vari significati che questo può avere certamente il carisma di fede ecco qui è quello che vi ho detto prima avevo messo nella slide eh il carisma di fede si manifesta eh eh connesso alle guarigioni ai miracoli non c'è dubbio non c'è dubbio eh guardate che però comunque ci vuole eh il dono di fede vuol dire anche per chi parla in lingue per chi esercita il dono delle lingue eh è una base perché non sai quello che dirai dopo chi chi interpreta le lingue ha sempre questa fede dentro eh perché non sai quello che uscirà della tua bocca cosa stai per dire quindi voglio dire c'è questa fiducia che è lo spirito santo però vedete vorrei farvi vedere la struttura di questo verso eccolo qui fede nello stesso spirito per un attimo quando ve l'ho messo qui nella slide l'ho tradotto mi è venuto da dire ma non è soltanto la fede che opera nello stesso spirito cioè lo spirito santo ma anche la fede nello spirito cioè verso lo spirito la fiducia totale nello spirito santo ecco quindi può avere anche questo significato quindi che cos'è è questa capacità di fidarsi ciecamente nello dello spirito santo di credere ciecamente nello spirito santo ciecamente in senso buono in senso di credito con ogni certezza che lui agirà per realizzare le promesse di Gesù Cristo questo è il carisma di fede eccezionale perché quando hai quella certezza dentro di te niente nessuno ti può affermare e Dio si manifesterà sicuramente con qualche eh qualcuno dei suoi modi la fede è il modo perché noi possiamo appropriarci delle cose che si sperano eh quindi le cose di cui che speri come vengono poi veri nella tua vita come si realizzano per fede e quindi questa fede è qualcosa ebrei 11 1 la fede è il fondamento delle cose sperate ed è anche la garanzia delle cose invisibili quindi vedete è collegata nella parola di Dio e la fede alla speranza e all'invisibilità delle cose ancora non realizzate quindi promesse esistono nella dimensione eterna ma devono realizzarsi in quella spazio temporale quindi è l'appropriazione di ciò che Dio ha già fatto e ha già preparato per tutti noi quindi la la questa 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 fede eh è è un è un dono fondamentale che Dio dà ai suoi ambasciatori sulla terra affinché si manifesti la sua eh volontà quindi in Matteo 11 24 eh lo possiamo in Marco scusate 11 24 molto velocemente perché il tempo stringe eh voglio dirvi solo questa cosa eccolo qui eh Gesù disse eh abbiate fede in Dio in verità vi dico abbiate fede in Dio abbiate fede in Dio eh abbiate fede in Dio in verità vi dico se uno dice a questo monte e levati e gettati nel mare senza dubitare in cuor suo ma credendo che quanto dice avverrà ciò gli sarà accordato eccola qui la fede di cui si parla eh mi piace collegarla a questo verso eh perché mi sembra che renda proprio Gesù stava parlando di questo secondo me ve lo propongo come una riflessione personale sta parlando proprio del carisma di fede per questo vi dico tutto quello che domandate nella preghiera abbiate fede di averlo ottenuto vi sarà accordato quindi il carisma di fede è qualcosa che si manifesta in risposta ad un desiderio della persona di vedere realizzate le cose di Dio e Dio ti dà la fede per poterle eh attrarre nella realtà visibile quella spazio temporale in cui vivi e questo è la garanzia che quello che speravi si avvererà ecco Gesù dice se avrete fede senza dubitare nel vostro cuore che quello che sperate che avete dentro avverrà avverrà è questo ed è eccezionale quindi la fede conosce sempre il risultato non è un desiderio umano non è una semplice speranza è la certezza che quello che il re ha promesso il Signore Gesù Cristo avverrà è qualcosa che arriva in un momento e ce l'hai fino a che serve quindi non viene con lo sforzo del desiderio umano di sforzo umano di voler no occorre come al solito come ho detto all'inizio di questa serie sui carismi occorre umiltà cioè la volontà di obbedire alla parola del Signore questa è la vera umiltà la mitezza un cuore mite un cuore sincero un cuore semplice un cuore semplice un cuore tornare come bambini quando i bambini sono certi non so se vi è mai capitato ecco il carisma di fede con questo chiudiamo non avete mai visto un bambino quando è certo che quello che ha detto il suo babbo avverrà quante volte non so se vi è mai capitato a voi si parli con gli amici quando eri piccolo e tu ti dico no ma questo non lo puoi fare tanto non guarda mio babbo me l'ha detto eh me l'ha detto mio babbo sicché stai tranquilli perché perché quello che bambino ha detto il padre è certo che il padre poi lo manterrà infatti non c'è bisogno più grande per un bambino che è un padre che non mantiene la sua parola ma il bambino ha questa capacità e Gesù dice tornate come bambini perché un bambino libero cioè un bambino autentico risponde ad un genitore affettivo nutritivo che si prende cura di lui e che non lo tradisce mai tornate come bambini il regno dei cieli è per i piccoli e Gesù chiamava bambini i suoi discepoli perché perché un bambino non ha difficoltà ad essere investito dalla fede nel padre non ha questo problema questo viene con la sofisticatezza della vita intellettuale dell'orgoglio e della superbia della mente umana che corrompe la semplicità del cuore del bambino e la fede ha bisogno di questo cuore semplice mite umile il bambino è umile esegue sempre quello che il padre gli dice di natura solo l'ambiente può corromperlo e portarlo alla livellione ricorderò sempre un grande affetto la voce dolce di quella donna malata in quell'aereo alcune ore fa quando insieme a me qui all'orecchio mi cantava lei io con me che vuol dire imponi le tue mani gentilmente sopra di noi lascia che il loro tocco rilascino la tua pace lascia che portino il il tuo perdono e la tua guarigione imponi gentilmente le tue mani gentilmente imponi le sei stato mandato per liberare i cuori spezzati sei stato mandato per dare la vista ai ciechi il tuo desiderio è guarire tutte le nostre malattie imponi le tue mani gentilmente imponi le tue mani signore noi veniamo a te a te attraverso gli attraverso gli attraverso gli altri insieme veniamo a te nei nostri bisogni veniamo a te cercando l'interezza imponi gentilmente le tue mani su di noi imponi le tue mani questa canzone mi commuove perché io ho beneficiato del coraggio di alcuni uomini che hanno osato imporre le loro mani su di me se non fosse stato per loro chissà erano canali aperti e io quando lo senti perché fu guarito e liberato mi disse gratuitamente ho avuto gratuitamente voglio dare ero certo che dio avrebbe usato questa mia disponibilità e così lo dico a tutti ricevi e da non c'è il limite all'azione di diavolo cerca di distruggere questa fiducia del bambino attraverso sensi di colpa disistima indennità la religiosità fa da padrone qui per impedire che con questa mitezza infantile nel senso buono dei bambini ci avviciniamo al trono del Signore e li permettiamo di manifestarsi attraverso di noi quindi i carismi di guarigione dei miracoli di fede questi atti di potenza meravigliosi portano l'amore di dio visibile nella nostra vita e quando preghi per qualcuno canta lay your hands gently upon us è in inglese la canteremo in inglese ". nicaura killer risorse 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 Let that bring you forgiveness and healing Lay your hands gently Lay your hands Lay your hands gently upon us Let that touch Render your peace Let that bring you forgiveness and healing Lay your hands gently Lay your hands Jesus Lay your hands gently upon us Let that touch render your peace Let that bring you forgiveness and healing Lay your hands gently Lay your hands You were sent to free the brokenhearted You were sent to free the brokenhearted You were sent to free the brokenhearted La mia mano, la mia mano, la mia mano Lloro, siamo venuti a te, tra l'unico Lloro, siamo venuti a te, tra l'unico Nervo, siamo venuti a te, tra l'unico Lloro, siamo venuti a te, tra l'unico Lloro, siamo venuti a te, tra l'unico Render your peace Let them bring you forgiveness and healing Lay your hands gently Lay your hands, Jesus Lay your hands, Jesus Lay your hands, Jesus Send your power, send your fire, Jesus Hallelujah Lay your hands, lay your hands Your hands, Jesus Upon us Let the touch render your peace Let them bring you forgiveness and healing Lay your hands, Jesus Lay your hands, lay your hands Lay your hands gently upon us Let the touch render your peace Let them bring you forgiveness and healing Lay your hands, Jesus Lay your hands, Jesus Lay your hands... Lay your hands... Grazie.